Il tema oggi è quello della Digital Transformation. IBM investe ogni anno 6 miliardi di dollari in innovazione. Vediamo un attimo. Esatto, noi sono tanti anni che investiamo gran parte dei nostri profitti, 6 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo. Una ricerca e sviluppo volta a offrire ai nostri clienti soluzioni per la trasformazione digitale. Investiamo molto nel mondo cloud, nel mondo analytics, nel mobile, nel social, nella security. In particolar modo ci stiamo specializzando ormai da anni nelle soluzioni di analytics più avanzate, quali il mondo Watson di intelligenza cognitiva, per far sì che le aziende e i nostri clienti possano beneficiare delle soluzioni di cognitive business in vari settori di industria. Ecco, un altro tema ovviamente portante oggi a casa di Red Hat è quella dell'open source, dell'apertura. Voi fate open innovation, vediamo un attimo in particolare. Esattamente, questa ricerca e sviluppo, questi investimenti non sono fatti dalla sola IBM, esiste un ecosistema molto importante di aziende che collaborano con noi e tra queste c'è ovviamente Red Hat, collaborano con noi per soluzioni di tipo aperto. Noi da sempre abbiamo abbracciato il tema dell'open source, essendo tra i principali contributori allo sviluppo del codice di prodotti open source. Ma ancora di più abbiamo impostato lo sviluppo anche dell'hardware nella piattaforma, ad esempio Power, attraverso un concetto di open innovation. Esiste un consorzio che si chiama Open Power Foundation, inizialmente costituito nel 2013 da 5 aziende ed oggi ce ne sono più di 250, con le quali facciamo innovazione di tipo open anche a livello dei sistemi hardware. E ovviamente, ancora una volta, insieme alla Red Hat, abbiamo soluzioni per il mondo Power Linux, ovviamente all'avanguardia.